Il giocatore più simpatico conosciuto nella tua carriera? Il più simpatico, il più simpatico, Rino Gattuso. È alto un metro e venti, arriva ai 100.000. Un po' di vergogna, uno deve provarla. Ho provato vergogna e ho preso il provvedimento. Dai Rino, se la mangi, se la mandi giù, ti diamo 10.000 euro. Ho preso il lumacone. No! Ma dai, giù non abbiamo dato un cazzo, ci voleva una salita. Rino è un grande, perché quando uno rilassa, lui è sempre lì e picchia tutti così. Sì, è bravo per me, perché lo so che c'è l'orino dietro di me che mi picca e che mi dà motivazione. Quelle volte che parlava a tavola gli facevano shhh dagli altri tavoli, mi impazziva. Allora si alzava e non c'era a picchiare qualcuno. Ma stai gufando? Ma stai gufando? L'altro giorno vedevo un film su Winston Churchill e mi sei venuto in mente. C'era una frase... che riesco a farti dire, son conti.